E' l'ora di ripartire, rintocca l'orologio, Vicenza guarda il mondo dall'alto e vede un orizzonte, un futuro. Ha un forte valore simbolico la riapertura della terrazza della Basilica Palladiana, luogo della grande bellezza di forte suggestione che consente di ammirare da una posizione privilegiata il fascino di una città ricca di storia. Ieri il rogito di Palazzo Tiene, tra l'altro che è caduto nel terzo anno, appunto l'anniversario del terzo anno di questa amministrazione ed oggi la terrazza della Basilica, due simboli culturali della nostra città, una città che ha voglia di ripartire anche da un punto di vista culturale e turistico, obiettivo fino a dicembre per l'apertura della grande mostra appunto sul rinascimento e quindi un rinascimento che vuole riproporsi appunto come nel 1500 una ripartenza post-covid. La terrazza della Basilica Palladiana viene così restituita alla città, ai vicentini, ai turisti, può essere visitata ogni venerdì, sabato e domenica dalle 10 del mattino alle 5 di sera. Da qui, da questa prospettiva, si rilancia la stagione dell'arte e della cultura con il commercio che è pronto a intercettare la ripresa. Quello che possiamo definire essere una delle terrazze più belle al mondo. Tante zone della città sono veramente rigenerate. Corso Fogazzaro, per esempio, una delle vie più belle del nostro centro storico, sono ormai pochissimi i locali sfitti, si contano veramente sulle dita di una mano. L'accesso alla Basilica è possibile con il biglietto. Per i vicentini è disponibile un ticket ridotto di 2 euro per la visita al monumento. È previsto invece il pagamento di un solo euro per poter salire su a fare un aperitivo in terrazza. E noi di Rete Veneta facciamo una proposta. Eliminare questo obolo di un euro perché la terrazza venga restituita totalmente ai vicentini che possano usufruirne gratuitamente. Condivido. È una scelta che abbiamo ereditato e che deriva in realtà dai grossi problemi di guardiania, dai grossi numeri di guardiania che impone un monumento come questo. Possiamo comunque lavorarci e provare a trovare un sistema per il quale l'ingresso in Basilica sia pure regolamentato da un biglietto, sia gratuito magari per i cittadini.